Grazie a tutti. Quando i nazi fascisti avevano attuato le leggi razziali, purtroppo stiamo tornando a queste leggi infami che purtroppo ci vedono discriminati senza valorizzare la cultura, facendo di tutta l'erba un fascio e quindi c'è tanta disinformazione riguardo. Io vengo proprio per cercare di informare, la mia presenza vuole essere proprio una testimonianza diretta della voce Rom che non c'è mai praticamente nei media e c'è sempre, come dire, un senso unico e quindi Rom non partecipano. Ecco, invece noi vogliamo rompere questo silenzio, vogliamo partecipare e soprattutto dire no alle leggi razziali. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.